L'area del Dalmolin appartiene alla provincia che deve tornarne in possesso. Lo sostiene intanto un esposto presentato oggi in provincia. Vediamo. Un esposto per sollecitare la provincia a riprendersi quello che un tempo era suo. L'ha consegnato oggi a Palazzo Nievo a Vicenza la vulcanica Franca Equizzi che non vuole arrendersi al progetto della base USA del Dalmolin. La rappresentante del comitato Salviamo l'Aeroporto ha presentato l'esposto attenendosi ai fatti storici che hanno visto ancora nel 1930 la provincia a acquisire l'area attuale del Dalmolin. Ceduta la proprietà gratuitamente 5 anni dopo all'aeronautica la quale serviva per la costruzione di un campo di fortuna, secondo l'Equizzi, ora che gli stessi terreni sono stati consegnati agli statunitensi per realizzarci una base militare, cambiando così la destinazione d'uso originaria per la quale erano stati ceduti ancora nel 1930, di fatto la provincia ne sarebbe la proprietaria di diritto. Ha ceduto gratuitamente a suo tempo il terreno all'aeronautica. A questo punto la provincia deve intervenire perché sono venuti meno i motivi dell'esproprio. Quindi deve intervenire sia sulla parte est che sulla parte ovest. Oltre a Pungolare, Palazzo Nievo, affinché si possa rimpossessare dell'area Dalmolin. Togliendola così dalle mani degli statunitensi, la Equizzi si rivolta anche alla Corte dei Conti, poiché dal mancato ritorno dell'area nelle mani dell'ente provinciale si riscontrerebbe un danno notevole a Rerario, trattandosi di una zona di un milione di metri quadri di superficie. In ogni caso dovrebbe la provincia chiedere un esoso affitto per quello che stanno costruendo gli Stati Uniti.